Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un libro che secondo me tutti dovrebbero leggere indipendentemente dalla condizione in cui si trovano ovvero Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig, edito Edizioni O che mi ha gentilmente omaggiato di questa copia al prezzo di 16,50€ non ci ho dovuto pensare molto per dire che questo è il miglior libro che ho letto quest'anno prima di entrare nel vivo però di questa lettura voglio semplicemente ricordarvi che se volete supportare il canale potete farlo anche semplicemente mettendo mi piace al video, iscrivendovi al canale in descrizione trovate un codice sconto per acquistare magliette simili alla mia che indosso ora dal sito Pampling con il mio codice affiliato avrete il 20% di sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale stessa cosa per il link affiliazione Amazon che trovate sempre qua sotto in descrizione, grazie Torniamo ora a Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig in questo romanzo l'autore parla della sua esperienza, lui infatti a 24 anni è stato a tanto così da togliersi la vita non parla soltanto della sua esperienza, dei suoi pensieri da suicida ma anche della sua depressione sempre per la stessa casa editrice l'anno scorso era uscito Vita su un pianeta nervoso dove l'autore in un libro dal formato molto simile a questo parlava della sua esperienza con l'ansia principalmente con gli attacchi di panico questo è un libro molto molto simile a Vita su un pianeta nervoso ma secondo me decisamente più incisivo e profondo i temi principali sono essenzialmente la depressione e il voler togliersi la vita da una parte c'è Matt Haig che racconta la sua esperienza quindi nel dettaglio quello che è successo come ha vissuto lui, come sta affrontando la depressione, che cosa l'ha aiutato nei momenti più difficili anche tutto il suo percorso di terapia e dall'altra ci sono dei capitoli dedicati ad esempio a delle citazioni, dei motivi per cui appunto continuare a vivere tratti ad esempio anche dal suo seguito oppure cose che lo hanno fatto stare bene, cose che lo hanno fatto stare particolarmente male delle conversazioni ovviamente fittizie che avrebbe voluto avere però con se stesso delle riflessioni in generale appunto su quello che stava vivendo è secondo me un modo molto interessante di integrare l'esperienza comunque dell'autore perché rende la lettura un po' più accattivante, un po' più fluida e permette di dare uno sguardo tra virgolette anche un po' esterno l'autore comunque non si professa mai un santone, un guaritore, un ti dirò come ritrovare la voglia di vivere se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu facendo questo e quest'altro la cosa più bella è che appunto non c'è questo intento l'autore semplicemente racconta la sua esperienza perché in questo modo tante altre persone magari si sentiranno capite tante persone troveranno magari il coraggio di parlarne di intraprendere un percorso o magari quelle persone non coinvolte in prima persona riusciranno a capire meglio che cosa stanno provando altre persone quindi avere un po' più di empatia verso il prossimo ma anche di capire ad esempio che la depressione non è sentirsi molto molto tristi ma è una malattia diciamo infatti che l'argomento principale del libro è la depressione e mi è piaciuto moltissimo il modo in cui l'autore parla di depressione perché come vi dicevo non tenta di far capire al lettore che cosa fare per uscirne non cerca di dare dei veri e propri consigli ma semplicemente attraverso la sua esperienza cerca di portare a galla magari delle cose che spesso non vengono dette perché si ha vergogna, perché la depressione non viene considerata una vera malattia eppure è la depressione la causa di tantissimi suicidi in generale sono molte di più le persone che si tolgono la vita per malattie mentali rispetto a quelle che si uccidono per problemi invece fisici un'altra cosa secondo me molto interessante è che viene affrontato proprio la divisione fra malattia mentale e malattia fisica divisione che spesso porta appunto ad avere dei pregiudizi nel confronto delle malattie mentali ho apprezzato il fatto che l'autore elencasse alcuni dei tra virgolette disturbi collaterali che ha portato la sua depressione perché aiuta a far capire come non sia una cosa poi così tanto semplice ma soprattutto una cosa che forse avrei preferito fosse sottolineata di più nel libro è che siamo tutti diversi reagiamo differentemente di fronte ai problemi di fronte al dolore di fronte anche alla malattia e la depressione si può manifestare portare dei sintomi diversi a seconda della persona questo viene detto proprio all'inizio ed è secondo me la chiave in generale per iniziare a capire chi magari soffre non solo di depressione ma di qualsiasi malattia mentale succede in realtà tantissimo anche con le malattie fisiche i sintomi possono variare da persona a persona e questo succede anche per quanto riguarda la depressione e in particolare una cosa che a me ha colpito tantissimo lo dirò magari tante volte ma leggendo questo libro mi sono sentita veramente capita non mi sono sentita più così tanto invisibile e ho pianto tantissimo proprio per questo perché sentivo che l'autore stava dando voce e soprattutto spazio a qualcosa che viene sempre messo un po' da parte perché quante volte abbiamo sentito qualcuno dire eh ma oggi sai sono un po' depresso come appunto sinonimo dell'essere tristi essere depressi invece non vuol dire essere tristi dicevo come dice anche l'autore è una malattia vera e propria non ci sogneremmo mai di dire le cose che diciamo a una persona depressa ad una persona che invece che so soffre di cancro o ha dei disturbi ad esempio intestinali o al cuore eccetera e a tal proposito voglio veramente leggervi un pezzo del libro cose che si dicono a un depresso ma non in altre situazioni potenzialmente letali dai so che hai la tubercolosi ma potrebbe andare peggio almeno non è morto nessuno secondo te perché ti è venuto il cancro allo stomaco? sì lo so è brutto avere il cancro al colon ma prova a vivere accanto a uno che ce l'ha mamma mia un incubo alzheimer dici non ve ne parlare a me capita sempre ah la meningite su dai pensa alle cose importanti piuttosto sì sì ti sta prendendo fuoco una gamba ma continuare a parlarne non migliorerà le cose ok sì va bene non ti si è aperto il paracadute però succo al morale ecco questo vi fa capire come la depressione sia una delle tante malattie prese molto sotto gamba soprattutto dalle persone che stanno appunto vicino ad una persona con questo tipo di malattia non ci si sognerebbe mai di dire queste cose appunto in altre situazioni proprio perché secondo me c'è una distinzione un po' errata della malattia mentale come qualche cosa tra virgolette di immaginario che è soltanto nella testa e si limita appunto al cervello rispetto ad altre malattie in ad esempio vita su un pianeta nervoso uno dei motivi per cui non ho amato la follia il libro nonostante secondo me tratti delle tematiche molto molto importanti è che spesso si cadeva in luoghi comuni e ci sono tante frasi fatte è una cosa che ritorna secondo me anche in questo libro ma sono frasi riferite ad una malattia di cui secondo me non si parla mai abbastanza e non in questi toni quindi anche se a volte ci sono delle cose che tra virgolette per me sono scontate mi rendo conto che per tantissime persone non lo sono e per questo mi sento di dire che è un libro che serve di più a quelle persone che magari non soffrono di depressione perché può aprir loro veramente gli occhi ci sono dei punti in cui l'autore dà anche dei consigli spassionati a chi magari appunto è vicino a qualcuno che soffre di depressione perché molto spesso si ricorre in queste frasi qui ma sì tanto passa su col morale oppure colpevolizzano è sicuramente un libro che aiuta anche chi ha sofferto soffre tuttora di depressione chi ha pensato almeno una volta nella vita di togliersi la vita non perché dà dei consigli su come affrontare il tutto ma attraverso l'esperienza dell'autore ti fa capire ti fa sentire capito ti fa sentire non solo non sbagliato non con qualcosa che è solo tu che è incurabile ti fa capire che c'è un'alternativa che c'è sempre un'alternativa una cosa che mi ha colpito molto a livello personale è che spesso si citano delle condizioni che non sono molto note di cui non si parla molto soprattutto in libri o fumetti che trattano il tema ad esempio della depressione ci sono tantissime cose di cui non si parla di cui si parla pochissimo molte altre vengono sminuite per questo mi è piaciuto molto questo libro non solo per l'esperienza diretta dell'autore che comunque permette di veicolare in una maniera sicuramente più efficace certi messaggi certe parole perché lui sa che cosa si prova lui ci è passato e non solo è una persona che ha sofferto ci è passato ma anche una persona che ha continuato a vivere che si è fatto una famiglia che magari non ha risolto al 100% i suoi problemi il suo malessere però è una persona che ha trovato una soluzione e come dice l'autore nel libro a lui per esempio da molta ispirazione conoscere delle persone anche ad esempio famose qua c'è una lunga lista di personaggi molto conosciuti che soffrono hanno sofferto di depressione eppure hanno fatto cose grandiose hanno continuato la loro vita hanno avuto un impatto veramente forte nel mondo nella società ogni persona è diversa ma secondo me ci sono tantissimi appigli e spunti molto interessanti in questo libro in primis per chi magari soffre d'ansia ha mai pensato di togliersi la vita soffre o ha sofferto di depressione o di altre malattie mentali perché sicuramente si sentirà capito sentirà che finalmente qualcuno dà voce a qualcosa di cui non si parla abbastanza che viene sempre più sminuito ma secondo me è un libro che tutti dovrebbero leggere anche se non hanno mai avuto esperienze dirette con ad esempio una malattia mentale proprio per cercare di capire l'ignoranza è una bruttissima bestia e per quanto pensiamo che tanto certe cose a noi non possono capitare nella vita può capitarci di avere un familiare che magari è malato o un amico e non c'è cosa più brutta vi giumerò ve lo dico per esperienza personale di qualcuno a cui volete molto molto bene completamente disinteressato a voi che sminuisce i vostri problemi anzi non solo i vostri problemi la vostra malattia è questo proprio il punto focale del libro la depressione è una malattia perché trattarla come invece un essere particolarmente tristi oggi o giù di morale avere un periodo no? è un libro quindi che per me può sensibilizzare tantissime persone e portare sempre più persone a vergognarsi meno a parlare di più ed essere più consapevoli soprattutto quindi se ancora non avevate inserito nella vostra wishlist questo libro fatelo adesso se lo avete già letto fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne avete pensato se secondo voi il metodo che utilizza l'autore per parlare di principalmente malattia mentale è efficace se anche voi vi siete sentiti capiti o vi ha dato un po' di conforto insomma se volete condividere i vostri pensieri con me fatelo qua sotto nei commenti qua sotto in descrizione delle schede vi metto invece un video che ho fatto sui miei libri preferiti di self help dove vi parlo anche di vita su un pianeta nervoso dello stesso autore spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao